60 Seconds del sabato, cari amici buon fine settimana per quanto possa apparire per certi aspetti difficile augurarsi buon weekend visto quello che dobbiamo commentare e seguire. Oggi a proposito di cose e di notizie da seguire, la telefonata e il contatto fra l'uomo di Mosca, fra Putin e il cancellere tedesco Scholz e il presidente francese, nonché presidente di turno dell'Unione Europea, Emmanuel Macron. Ora capisco la disinformazia, ne ho parlato, ho scritto molto in questi giorni, ma insomma dichiarare come ha fatto il dittatore di Mosca che gli ucraini si sono resi responsabili di crimini contro l'umanità è proprio in linea con la Russia che dichiara, la Russia di Putin sempre, sottolineiamo, che dichiara non c'è nessuna guerra in Ucraina ma un'operazione militare speciale. Siamo nell'iperuranio, siamo nella dimensione parallela delle balle elevate a sistema di propaganda per colpire l'Occidente, per colpire noi, per colpire un'opinione pubblica che si presta in qualche misura. Altro tema che ho molto approfondito in questi giorni. Del resto vogliamo meravigliarci, vogliamo dirci sorpresi dopo anni in cui abbiamo propagandato qualsiasi bagianata, in cui abbiamo detto che studiare era un male, in cui abbiamo ovviamente portato sugli altari, agli onori delle cronache, le democrature, abbiamo fatto i panegirici degli uomini forti, vogliamo meravigliarci oggi se un pezzo consistente della nostra opinione pubblica, i nostri fratelli, si facciano fuorviare. Non possiamo dirci sorpresi, l'abbiamo costruita anche noi in casa nostra, questo effetto paradossale. Certo non saranno la maggioranza, ma ci sono e sono rumorosi. Poi c'è anche chi dà loro spazio, ma questa è un'altra storia. E poi una battuta veloce, ci torneremo, ne ho scritto in settimana sulla ragione, gli effetti dello spazio, della frattura fra Occidente e Putin. I russi adesso minacciano di far precipitare la stazione spaziale internazionale sulla Terra. In realtà il ruolo russo nella stazione spaziale è molto di navetta, con le sue Juts, e sostanzialmente poi di sostegno all'orbita corretta di circa 400 km dal suolo terrestre attraverso dei vettori appunto di fabbricazione russa. Quindi loro minacciano sostanzialmente di non far lavorare più questi vettori, far lentamente decadere la stazione spaziale verso l'attrazione terrestre. Ancora una volta bisogna dire agli uomini della propaganda, state calmi, lo si sapeva già, si sta già pensando di intervenire sostituendo, ove necessario, i razzi russi con i molto più moderni e deficienti SpaceX di Elon Musk e anche con un vettore, un lanciatore di fabbricazione europea. Ancora una volta pura propaganda e enorme tristezza perché si va a minare persino l'emblema per eccellenza della cooperazione fra i blocchi di una volta, vale a dire quella spaziale. Una tristezza è un'ennesima responsabilità che ricade tutta, tutta sul dittatore di Mosca.